Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV L'informazione locale Quarta vittima nelle marche del coronavirus è un 75enne di Fanno ricoverato al Santa Croce da venerdì scorso con problemi cardiaci Sono 13 i tamponi positivi nella giornata di oggi in tutta la regione 97 i positivi quasi tutti in provincia di Pesero Urbino tre positivi anche a Ferro Anche nelle farmacie vengono adottate misure di sicurezza per evitare il contagio i farmacisti però sono tra i più esposti ai rischi L'emergenza in atto sta creando problemi economici anche all'economia locale il grido di allarme della CNA pesarese Nei locali pubblici scatta l'obbligo di stare ad un metro di distanza l'uno dall'altro e da domani iniziano i controlli Bomboletta Spray si incendia nel camion di Aset l'autista se ne accorge in tempo e svuota tutto il materiale Sul digestore anaerobico a bell'occhi di Fanno non ci sarà nessun referendum è stato giudicato inammissibile infatti il quesito Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia il telegiornale di Fanno TV sul canale 17 del Digitale Terrestre e allora apriamo con l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria legata al coronavirus nella nostra regione regione che oggi registra la quarta vittima contagiata appunto dal virus si tratta di un fanese di 76 anni con problemi pregressi problemi cardiaci il decesso è avvenuto nel pomeriggio di oggi al Santa Croce vediamo Sono due i decessi registrati nella giornata di oggi nelle marche tra i pazienti risultati positivi al coronavirus il primo è un anziano di 85 anni di Ancona anch'esso con gravi patologie pregresse indegenza all'INRCA istituto di ricovero e cura per anziani deceduto durante la notte scorsa il secondo è un 76enne di Fanno Gandolfi Mario ricoverato venerdì scorso a Pesaro inutiche per una sofferenza cardiaca e con febbre alta è tenuto in osalamento per essere risultato positivo al test del coronavirus nella notte scorsa è stato trasferito in terapia intensiva al Santa Croce di Fanno dove però in giornata è deceduto anche il numero dei contagi si è aggiornato altri 13 tamponi positivi sono stati segnalati oggi dal Gores di Ancona esaminati dalla virologia del Torrette altri 7 in provincia di Pesaro e altri 4 ad Ancona pertanto i positivi salgono complessivamente a 97 in totale di cui 79 nel Pesarese 13 nell'Anconetano 3 nel Fermano e 2 a Macerata inoltre le persone in isolamento domiciliare sono 500 mentre i ricoverati in terapia intensiva in totale sono 14 di cui 8 negli ospedali di Marche Nord e 2 a Torrette ma nella giornata di oggi inoltre si è tenuta in regione anche una nuova cabina di regia stiamo continuando a lavorare con la crescita che c'è stata negli ultimi giorni importante del numero di casi positivi e soprattutto sul piano sanitario in questo momento per allestire i spazi e strumenti necessari a una situazione che cambia sotto profilo economico c'è stato il lavoro del primo tavolo perché bisogna iniziare a pensare anche a quello prima ovviamente la salute e poi anche gli aspetti legati all'economia le misure con l'ultimo decreto sono state differenziate fra un'area e un'altra io avrei preferito mantenere su tutta la regione le stesse misure ma il governo ha fatto la scelta di avvocare a sé questa strategia riconoscendo ovviamente nella provincia di Pesaro Rubino l'area più colpita però noi continuiamo parimenti a seguire la situazione in tutta la regione noi con le risorse regionali vogliamo fare in modo che in qualche maniera in modo complementare rispetto a quelle statali possiamo utilizzarle per dare una risposta a quella parte della nostra economia che è colpita Nell'azienda ospedaliera Marche Nord al momento nessun dipendente tra quelli che sono stati messi in quarantena circa una cinquantina ha sintomi lo ha detto il direttore generale Maria Capalbo alla organizzazione sindacale riuniti in un incontro che si è tenuto oggi tra la direzione sanitaria di Marche Nord appunto e questi rappresentanti dei sindacati di categoria in merito alla gestione dell'emergenza Covid-19 il direttore generale ha elogiato tutto il personale sanitario di Marche Nord per il lavoro straordinario che sta facendo in questi giorni l'azienda l'assenza l'assenza di operatori contagiati al momento spiega appunto l'azienda Marche Nord è un dato indicativo del fatto che già prima del 26 febbraio Marche Nord giorno in cui è arrivato il primo caso di coronavirus ha adottato tutte le misure necessarie per proteggere il personale ed i pazienti e tra le categorie più esposte sicuramente c'è anche quella dei farmacisti noi oggi ne abbiamo incontrato uno di loro le limitazioni imposte dal governo per contenere la diffusione del coronavirus stanno condizionando molto le nostre abitudini soprattutto per quanto riguarda la tanto famigerata distanza di sicurezza il droplet parola ingrese che abbiamo sentito citare più volte nelle trasmissioni televisive letteralmente significa gocciolina e in campo epidemico si riferisce alla saliva nebulizzata che parlando con una persona infetta a distanza ravvicinata oppure per colpa di uno starnuto o di un colpo di tosse ci raggiunge trasmettendoci il virus ma questa famigerata distanza di sicurezza oltre che i nostri rapporti sociali sta creando problemi anche nelle situazioni inevitabili come andare in posta in banca o parlare con un impiegato o come abbiamo sentito ieri colloquiare o essere visitati dal proprio medico una delle categorie più esposte al rischio ma un'altra professione molto esposta al contatto con persone quotidianamente è quella del farmacista il quale come il medico si sente se non in prima linea ma certamente tra i più esposti le direttive da parte del Ministero della Sanità sono state abbastanza chiare e cerchiamo nei limiti del possibile della decenza insomma di applicarle cartelli con le indicazioni cercare di evitare il sovraffollamento nei locali cercare di rispettare il famoso metro di distanza anche se diciamo che poi praticamente è abbastanza inattuabile questo consiglio che ci dà il Ministero della Sanità per quel che riguarda la reperibilità dei prodotti consigliati sapete benissimo qual è la situazione gel disinfettanti per le mani praticamente introvabili mascherine praticamente introvabili di ogni tipo categoria e forma sembra che da comunicazioni che ci arrivano anche dai nostri fornitori sembra che qualcosina entro la prossima settimana si dovrebbe muovere anche perché le aziende si sono diciamo riattrezzate nella produzione insomma pensate anche di fare qualche operazione meccanica proprio una barriera qualche cosa che aiuti a prevenire beh indubbiamente anche i dati di stamattina fanno pensare a un'evoluzione della cosa e un avvicinamento cioè da zona gialla siamo diventati arancioni diciamo quindi c'è la previsione di un avvicinamento purtroppo inevitabile alle zone cosiddette rosse quindi credo che anche sotto quell'aspetto bisognerà prendere delle precauzioni come in altre attività tipo banche tipo altri negozi che ha messo delle paratie di plexiglass per evitare proprio la trasmissione allora ricordiamo anche se la notizia è già circolata anche sui nostri canali social in particolare Telegram che è il canale che abbiamo deciso l'applicazione che abbiamo deciso di utilizzare per dare informazioni in tempo reale sulla questione del coronavirus su questa emergenza siamo più di mille iscritti e dicevo la notizia è già circolata ma adesso è ufficiale le scuole e le università saranno chiuse in tutta Italia fino al 15 di marzo non solo sospensione in tutto il paese come già accaduto per le zone rosse di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura e in qualsiasi luogo partite e competizioni sportive comprese la serie A a porte chiuse sport di base che non si ferma ma solo a condizioni che vengano rispettate le raccomandazioni dell'istituto superiore di sanità dunque il governo ha deciso così di varare questa nuova stretta per tentare di arginare la diffusione del coronavirus che con i malati che hanno ormai superato i 2700 e l'intero paese ad eccezione della Val d'Aosta chiamato a fronteggiare ogni giorno nuovi casi torniamo nelle Marche torniamo a Fano una curiosità un attimo per spezzare come si dice guardate queste fotografie si tratta di due cartelli due grandi cartelloni che sono comparsi oggi a Fano per ringraziare il lavoro straordinario di medici ed infermieri è un'iniziativa privata che porta la firma dei fratelli Daniele e Filippo Carboni a nome di tutta l'azienda che rappresentano è un messaggio di solidarietà verso i medici e gli infermieri impegnati in prima linea per far fronte a questa emergenza un pannello è stato installato a Gimarra sempre a Fano ed uno all'uscita della superstrada un modo dice Filippo Carboni per ringraziare tutti coloro che sono impegnati costantemente per assistere gli ammalati e questo ringraziamento non è soltanto a nome nostro ma di tutta la città il comune di Pesaro si è attivato per chiedere a governo e regione Marche di intervenire con specifiche risorse regionali e comunitarie per supportare il territorio regionale gravemente danneggiato dal punto di vista economico e sociale dall'emergenza coronavirus tra le istanze c'è quella di sospendere i versamenti in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile per cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione il comune compreso in zona gialla come tutte le province di Pesaro come tutta la provincia di peso urbino chiede anche la sospensione fino al 30 di aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive le agenzie di viaggio e di tour operator e l'incremento dei fondi destinati a sostegno delle imprese esportatrici e del fondo di garanzia per le piccole medie imprese e parlando di economia locale anche locale ma il problema riguarda davvero tutta l'Italia in particolare il nord ma sicuramente anche la nostra economia a lanciare il grido di allarme oggi il segretario della CNA di Pesaro Urbino Moreno Bordoni che abbiamo intervistato Devo dire che a livello di comunicazione a livello di immagini a livello di economia abbiamo fatto dei danni notevoli abbiamo fatto dei danni notevoli anche nella nostra provincia ci sono situazioni davvero molto preoccupanti di imprenditori che hanno completamente bloccato la propria attività questo non ce lo possiamo permettere quindi come associazione a livello nazionale siamo costantemente in contatto con il ministero per cercare di trovare tutte quelle misure a sostegno dell'impresa parlo di un fondo di garanzia parlo della moratoria sui mutui parlo del momentaneo non pagamento di alcune imposte e tasse la stessa cosa è stata fatta in regione tanto che il consigliere diciamo così di riferimento della provincia di Pesaro Urbino Biancani ha portato una mozione in cui impegna la regione ovviamente a un sostegno all'impresa stiamo facendo un lavoro enorme in trincea in queste ore perché come associazione in questo momento ci sentiamo davvero di combattere al fianco dei nostri imprenditori avete detto per primi non c'è solo il turismo la ristorazione che ovviamente stanno subendo subito il contraccolpo di questa crisi di questa emergenza ma ci sono anche le imprese della produzione della manifattura che stanno subendo i contraccolpi e da questo punto di vista il governo ha investito poco in questa fase di emergenza ma è tutto il mondo dell'impresa che è in difficoltà le prime avvisaglie ovviamente la mancanza di perotazioni a molti hanno disdetto ristoranti e bar praticamente semi vuoti questo è un problema immediato che si percepisce da subito ma tutto quello che c'è dentro il mondo produttivo è in difficoltà lo sarà anche per i prossimi mesi e se questa emergenza non finisce purtroppo sarà una crisi molto impattante che la nostra provincia in particolare ma tutto il paese Italia non si può permettere il governo sta innanzitutto gestendo l'emergenza sanitaria ma sollecitato anche dalla CNA e dalle altre associazioni di categoria sta mettendo in campo alcune situazioni di sostegno economico alle imprese che spero il prima possibile vengano ovviamente in maniera molto pramatica messe sul tavolo in modo che subito possiamo agire a favore del mondo economico e del mondo imprenditoriale che da una crisi degli ultimi dieci anni a questa ulteriore situazione ovviamente faticherà molto a riprendersi noi ovviamente ci auguriamo che l'emergenza sanitaria al più presto torni alla normalità ma senza indugio da subito dobbiamo essere in grado di sostenere quelle imprese che un blocco economico di diversi giorni come quello che stanno subendo davvero sarà difficile nei prossimi mesi recuperarlo beh inutile dire che questa emergenza coronavirus sta cambiando un po' anche i nostri modi di vivere le nostre abitudini quotidiane e lo si sta facendo anche a colpi di decreto l'ultimo è quello che riguarda appunto la distanza di sicurezza da tenere anche nei locali pubblici nei bar per esempio nei ristoranti e allora sentiamo nel dettaglio che cosa prevede questo specifico punto il nuovo decreto uscito dal consiglio dei ministri stabilisce le regole per affrontare l'emergenza covid-19 la grande novità è proprio il droplet la distanza di sicurezza di un metro ciò deve essere reso possibile anche all'interno di luoghi aperti al pubblico come musei istituti e luoghi di cultura ma anche bar e pub che hanno l'obbligo di evitare sembramenti di persone da quando è entrata in vigore il nuovo decreto di Palazzo Chigi anche i bar della città di Fano così come tutte le attività della provincia di Pesaro e Urbino si stanno adeguando alle nuove disposizioni il decreto entrato in vigore all'interno delle attività commerciali mette a dura prova anche molti esercenti i quali potranno subire controlli da parte degli organi competenti hanno fatto un sopralluogo e hanno fatto raccomandazioni di seguire le regole che sono di mantenere distanti i clienti un metro l'uno dall'altro avvisandoci che ci sono conseguenze penali a riguardo adesso ogni cosa per le aziende viene rivendicata su un fatto penale verso il titolare senza per l'ennesima volta darci il modo di operare un modo superante ben preciso con degli step da seguire ad esempio c'era un tavolo di cinque ragazzi entrati insieme che studiavano insieme loro hanno solo saputo dire che devono stare un metro dall'altro cioè questo non ha senso entrano insieme sono in cinque riescono insieme che modo è intanto io magari per loro è un modo per andarmi sul penale abbiamo distanziato i tavoli abbiamo eliminato delle sedute dei posti a sedere e il personale si raccomanda costantemente con i clienti di stare lontani far rispettare le regole al flusso di clientela quotidiana ci dicono gli esercenti non è sempre facile in un altro bar della città ad esempio sono state adottate delle indicazioni visive che tracciano la distanza di sicurezza richiesta dal decreto abbiamo messo anche della segnaletica a terra in modo che chi arriva si ferma sulla zona rossa che è un metro di distanza l'uno dall'altro un pochino di calo c'è stato ma il calo più forte l'abbiamo avuto da domenica sera dopo le 18 quando è uscito il decreto legge che hanno firmato i ministri avete subito un calo di clientela? fino adesso la verità no però siamo sempre in disagio con la paura con tutto quindi c'è un problema anche quando arriverà l'estate la risposta dei clienti è discordante se alcuni assidui frequentatori sembrano aver preso confidenza con le nuove regole altri continuano a disonorare le norme di buonsenso dobbiamo essere collaborativi con quello che ci viene detto dalle autorità quindi è sempre meglio secondo me anche perché il virus non risparmia nessuno quindi quando arriva arriva per me non dovrebbero mettere neanche i giornali perché qualcuno che sfoglia il giornale con la saliva infetta lo lascia lì e la trova oltre bisogna cercare di seguirle per appunto evitare un altro contagio perché la persona finché non manifesta i sintomi non può saperlo e quindi questa è una prevenzione in più quindi sì il mio punto di vista è che bisogna vedere se è effettivamente efficace lo vedo molto difficile tra i fattori che influenzano una maggiore possibilità di trasmissione figurano la densità delle gocce di saliva nebulizzata a questa si aggiunge anche lo scambio delle banconote che secondo l'organizzazione mondiale della sanità il denaro può catturare ogni tipo di batterio bene oh ma io vorrei sincerare che noi siamo a metro di distanza ma un po' a minore no perché l'ha detto anche la televisione tocca stare a me a metro questo è a metro benissimo ma più soldi? più soldi ho fatto questa invenzione ma chi che è? la cerbottana per dare i resti allora te metti dentro questi due euro vado ecco scivolano nel mio scusa puoi togliere il colline diatico sul web intanto si diffondono anche altri video come questo diventato virale che mostra l'idea di due ragazzi che si salutano in modo alternativo per evitare il contagio e meno male che c'è chi sdrammatizza e la prende sul ridere ma c'è poco da scherzare invece quando si parla di questioni comunque serie che riguardano la nostra salute e torniamo restiamo sulla questione del cosiddetto droplet ovvero del metro di distanza d'ateliere ma soprattutto ci concentriamo adesso sulla questione dei controlli allora io sono siamo in collegamento con il comandante della polizia locale del comune di Fano la dottoressa Montagna buonasera 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 comandante allora le chiedo quando inizieranno i controlli eventualmente nel territorio del comune di Fano e soprattutto qual è la situazione in questo momento i controlli sono anche già iniziati perché noi siamo in vigenza di un decreto del presidente del consiglio dei ministri che è già in vigore per la nostra provincia e che prevede proprio alcune misure che servono per evitare il contagio l'obiettivo primario di questo decreto è proprio quello di cui si parlava il famoso metro di distanza da tenere tra le persone al fine di evitare il più possibile il contagio e il diffondersi della malattia è proprio di oggi un ulteriore decreto emanato sempre dal presidente del consiglio che prevede determinate misure anche su tutto il territorio nazionale e questo ci fa capire che senza creare allarmismi però la cittadinanza bisogna invitarla ad adottare tutte le cautele utili per evitare proprio questo contagio Senta comandante siccome i tempi sono stretti volevo chiedere i controlli li farete in divisa o in borghese? No i controlli sono in divisa perché la gente ci deve vedere e quindi deve essere chiaro che il nostro obiettivo è garantire il rispetto di questo decreto non poi sanzionare o altro è garantire il rispetto del decreto al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini Uno degli intervistati un titolare di un bar ha detto che andando subito al sodo ci saranno dei risvolti penali per chi evidentemente non rispetterà o farà rispettare queste regole è così? Sì è così è quanto prevede il decreto la sanzione prevista è proprio di natura penale è l'articolo 650 del codice penale che punisce chiunque non rispetta un ordine legalmente dato dall'autorità come è il caso di specie Ecco senta comandante lancio un appello allora a tutti coloro che sono nel territorio di vostra competenza che hanno un ristorante un bar un locale pubblico e che potrebbero essere controllati dai suoi agenti Guardi noi li invitiamo proprio a rispettare queste disposizioni che vengono date a livello governativo anche a livello locale proprio per evitare e diffondersi di possibili contagi e quindi non si impone al momento la chiusura ma il rispetto delle prescrizioni previste quindi questa distanza e queste cautele così che possano essere adottate a tutela e beneficio di tutti grazie grazie al comandante della polizia locale di Fano Anna Rita Montagna e adesso cambiamo pagina andiamo a parlare di un della cronaca in particolare perché oggi è successo che un un camion della dell'Aset un camion dell'azienda pubblica Aset adibito allo svuotamento dei cassonetti del ferro ha rischiato di andare a fuoco per colpa di chi in barba i divieti butta le bombolette spray che contengono ancora del gas al loro interno e devo dire che l'autista in questo caso è stato molto bravo vediamo perché questo ha preso fuoco e come vedete ci sono delle esplosioni in località Cerasa guarda che roba un mezzo ha detto la raccolta dei rifiuti ferrosi dell'Aset ha rischiato di andare a fuoco se non fosse stato per la prontenza di riflessi del suo operatore è caduto questa mattina poco dopo le 11 nel comune di San Costanzo il compattatore stava operando nella frazione di Cerasa svuotando i contenitori azzurri della differenziata dove vanno smaltiti i rifiuti ferrosi durante il suo giro l'autista del mezzo si è accorto che dopo aver azionato la pressa del compattatore è iniziato a svilupparsi del fumo all'interno della cassone prontamente seguendo un preciso protocollo che in questi casi prevede di liberarsi del carico dopo aver individuato uno spazio idoneo ha scaricato il contenuto a terra appena in tempo perché alcune esplosioni hanno alimentato un robo perché questo ha preso fuoco il motivo di questo incidente ci fanno sapere da ASET sta nel fatto che alcuni utenti scaricano nel cassonetto bombolette spray non del tutto scariche del loro gas che nel momento in cui si aziona la pressa per compressione fuoriesce incendiandosi a causa delle scintille emesse dal metallo che si comprime questa è una pratica molto pericolosa che non è la prima volta che causa incidenti di questo tipo che nonostante cartelli e avvisi di pericolo ben chiari presenti sui cassonetti molti utenti lo ignorano fortunatamente però la prontezza di spirito del dipendente e l'arrivo dei vigi del fuoco hanno evitato il peggio né il mezzo né il suo autista hanno riportato alcun danno Abbattuto invece con 250 candelotti di dinamite il Ponte Amelia di Monte Cerignone quello nuovo sarà pronto entro un mese minimizzato l'impatto sul fiume Conca Con un'esplosione spettacolare alimentata da 250 candelotti di dinamite il consorzio di bonifica delle marche che ha detto addio al vecchio Ponte Amelia di Monte Cerignone e ha posto le basi per la costruzione di un nuovo ponte che sarà ultimato in tempi record entro i primi di aprile il nuovo ponte che sarà completato nel giro di un mese sarà realizzato in acciaio corten e con una presenza di isolanti di sismici e altre soluzioni avveniristiche in questa spettacolare demolizione sono state usate tutte le accortezze per causare il minimo impatto ambientale sul fiume Conca sul corso d'acqua non è caduto un solo centimetro di catrame perché era stato tolto prima dell'esplosione mentre i detriti prodotti dalla detonazione verranno asportati nel giro di un paio di giorni una parte da protagonista in questa opera è stata la regione che ha contribuito con importanti risorse finanziarie a questa realizzazione dobbiamo rendere omaggio a chi ha lavorato prima ancora a chi ha progettato questo ponte che ha svolto egregiamente il suo servizio per quasi 70 anni essendo del 51 il ponte va fuori esercizio non perché mal costruito ma perché costruito con materiali molto poveri rendiamoci conto che stiamo parlando del primo periodo della ricostruzione un grande ringraziamento alla regione Marchia al suo presidente che hanno voluto dare un contributo fondamentale di 800 mila euro per contribuire alla ricostruzione e poi un grazie una gratitudine a tutto l'apparato tecnico a cominciare dall'ingegner Mario Primavera della provincia di Pesare Urbino che oltre al contributo di carattere finanziario per 500 mila euro è stato un ottimo punto di riferimento per le soluzioni tecniche il ponte è un'opera strategica nelle infrastrutture di collegamento del comprensorio e una delle principali porte d'ingresso del Monte Feltro che serve una popolazione molto vasta e per questo è stato chiesto ai progettisti del consorzio di fare una struttura all'avanguardia ma un altro partner essenziale in questo progetto è stato l'apparato tecnico della provincia di Pesare Urbino che oltre a un contributo finanziario di 500 mila euro è stato un ottimo punto di riferimento per le soluzioni del caso Il comune di Corinaldo si costituirà parte civile nel processo ad Ancona contro sei giovani del Modenese presunti componenti della banda dello spray accusati di aver spruzzato la sostanza al peperoncino per commettere furti all'interno della discoteca Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 generando la calca che causò la morte di 5 minorenni e di una madre 39enne Con questa scelta il comune di Corinaldo vuole rappresentare giuridicamente interessi e diritti della propria comunità Di gestore anaerobico parliamo del referendum e torniamo ad occuparci di questa vicenda perché? Perché la commissione ha definito inammissibile il quesito referendario e dunque non ci sarà nessun referendum Noi oggi abbiamo ascoltato uno dei promotori del comitato no di gestore Davide Del Vecchio La risposta della commissione è che il quesito è inammissibile perché non è di competenza esclusiva del comune che ha quindi non può decidere in maniera autonoma dove localizzare un di gestore per cui giustamente non ci fanno fare neanche il referendum però a questo punto noi ci chiediamo perché il sindaco continua a portare emozioni a dire che lo farà a spendere soldi con Aset per ipotizzare e valutare questo impianto quanto non c'è nulla in questo momento e non può comunque deciderlo lui ancora di più perché poi la relazione e vogliamo ringraziare la commissione perché è stato veramente un grandissimo lavoro che hanno fatto molto preciso accurato scegliendo un tecnico della regione che è anche relazionato dal punto di vista tecnico e giuridico sugli aspetti beh da questa relazione io credo che emergano le ragioni per cui non si può fare a Bellocchio e Falcinetto in maniera chiara quindi ne deve prendere atto il sindaco di Fano primo perché la provincia nel 2018 ha approvato una delibera dove non si possono realizzare impianti di questo tipo e la zona di Bellocchio e Falcinetto ha tre vincoli di tutela idrico ambientale e naturalistico e anche di tipo culturale paesaggistico quindi tre vincoli mi chiedo io come si possa solo ipotizzare di indicare quei siti lì quindi già due siti non ci sono secondo l'unico documento che è citato anche nella relazione che in questo momento è valido è la relazione preliminare provinciale dell'Ata e in quella relazione c'è un unico sito che è indicato che è quello di Monteschiantello con un impianto piccolo da 15.000 tonnellate all'interno di fianco alle discariche questa è l'unica cosa che ha votato il comune di Fano peraltro quindi il sindaco l'ha votato quel documento lì e questo momento è l'unica cosa che si può fare veramente su questo territorio dovrebbero cambiare tutto il piano preliminare provinciale dovrebbero farlo approvare alla regione non c'è nessuna approvazione della parte della regione per cui mi chiedo perché continuate a spendere i soldi dei cittadini inutilmente e mi chiedo a questo punto se il sindaco voglia fare una dichiarazione ufficiale e dire cosa ne pensa di questa relazione che gli è stata inviata dai tecnici e oltretutto questo ovviamente lo chiedo io se non voglio invece iniziare un percorso vero di coinvolgimento di partecipazione spiegando ai cittadini come vuole gestire i rifiuti provinciali con tutto il resto dei comuni della provincia allora oggi pomeriggio tra le tante notizie che si sono susseguite come succede ormai da qualche giorno è venuta fuori una notizia una fake news così come si dice una notizia falsa circa l'inserimento della provincia di Peso Urbino nella zona rossa allora va detto ancora una volta se mai ce ne fosse bisogno che la provincia di Peso Urbino non è inserita nella zona rossa non è in zona rossa è e continua a rimanere nella zona cosiddetta gialla quindi in una zona intermedia quello che invece è vero è che la provincia di Peso Urbino insieme a quella di Savona è stata aggiunta alla lista del Parlamento europeo delle aree considerate a rischio per il coronavirus la nota di aggiornamento del Parlamento europeo aggiunge a questa lista anche alcune aree in Francia e in Germania che però si precisa non presentano lo stesso livello di rischio delle altre zone ora in ogni caso se negli ultimi 14 giorni si è stati in una di queste aree aggiunte quindi Savona o Pesaro Urbino secondo quanto si legge nella nota del Parlamento europeo si dovrebbe rimanere a casa per due settimane ieri sera vi abbiamo fatto vedere siamo in chiusura del nostro telegiornale vi abbiamo fatto vedere quel video parecchio disgustoso che è stato trasmesso da Canal Plus in Francia e che mostrava un pizzaiolo che addirittura quasi vomitava su una pizza italiana una satira pesante oggi e questa sera rispondiamo invece con l'allegria di una canzonetta che serve appunto per rispondere ai francesi una canzone che sta girando ovviamente sui social in rete e sta riscuotendo un gradevole successo è un video della Rimban Band e con questo ci salutiamo ci diamo appuntamento a domani mattina alle 7 con la Rassegna Stampa arrivederci tu francesi tu ne le sa la gioia che ti da la pizza la brichosa tu che parli di culture e hai solamente l'ouvre pieno di nostre cose sì tu hai la torre Eiffel ma il bagno colbidè è tutta un'altra cosa ci avremo pure le coronavirus ma noi sapone lo siam tutto le di noi sapone le coronavirus ma non il virus che avete voi lì c'è l'ai tu nel di néa le virus natural perché si strutte c'è